Vince 3 a 0 Cerano sulla Biogliese Valmos in casa ma è stato favorito al di là del risultato meritato dall'espulsione di un giocatore, il numero 2 degli ospiti. Vediamo le azioni dei gol. Al nono finalizza Petrone che infila l'angolino più lontano e realizza il gol del vantaggio già al solo il nonno minuto. Al secondo minuto di recupero del primo tempo Damiano vince un contrasto e batte l'estremo ospite La Terra per il 2 a 0. Al quarto minuto della ripresa espulsione del numero 2 ospite Zuccone e quindi Biogliese in inferiorità numerica al 46esimo. Quindi in momento di recupero Damiano coglie il palo a portiere battuto, riprende la palla Vada e l'accompagna in rete per il terzo gol. Quindi risultato finale Cerano 3, Biogliese Valmos 0.